La rassegna stampa del giorno In diretta sono le 7.36 Anche questa settimana vi annuncio che ci sarà il Papa da Santa Marta nella Messa del Mattino Quindi ritorneremo penso alla normalità ancora fra una settimana e dieci giorni Insomma poi comunque vi terremo informati Stessa cosa le 18 oggi pomeriggio un'altra Messa Allora ben ritrovati dicevo cominciamo questa nuova settimana con l'informazione La rassegna stampa e prima il Santo del giorno e poi il tempo Il Santo di oggi la Chiesa ricorda San Teriberto di Colonia Mentre il sole è sorto alle 6.17 Tremonterà alle 18.17 Andiamo a vedere il tempo Il tempo previsto per oggi sarà sereno su tutta la Regione Marche Così come domani soltanto un po' di nuvole qua e là ma niente precipitazioni Vediamo i giornali invece Andiamo sul resto del carino Questa è la pagina di Pesaro Io voglio farcela Questo è il virgolettato Lo dice questa signora che domani compie 100 anni Dice ho il virus, lotto per arrivare fino a domani al treguardo dei 100 anni Ma il titolo è per l'ex giocatore di basket della VL Che ha pubblicato una foto con la mascherina all'ospedale Intubato per una polmonita In attesa che arrivi il verdetto del tampone Dice attaccato, sono attaccato all'ossigeno E poi la tragica conta Dieci morti in provincia Gianfranco Di Dario non ce l'ha fatta La casa di riposo al Santa Colomba Almeno tre le vittime Poi la denuncia sulle mascherine Che non sono a norma Nessuna protezione Mentre da Urbino Elisabetta Foschi dice Ma che no Covid Questo ospedale qui a Urbino ci sono 45 pazienti La parte che riguarda invece i contagi Oltre quota mille Tra 15 giorni è possibile svolta E poi l'ex vis Nappi Impariamo, dice, dalla Cina Lì hanno un grande senso del dovere Poi la protesta invece Che troveremo tra poco sui giornali Va a prendere la compagna con la macchina Al lavoro Però viene denunciato Lei opera in una struttura per disabili Una sola auto in famiglia E per lei si tratta di un'ingiustizia Questo è il Corriere Adriatico Richiamati i sanitari in quarantena Il titolo Emergenza coronavirus Sia rientro per medici ed infermieri E dal governo Misure di sostegno per l'economia Ancora un bilancio pesantissimo per le marche In un solo giorno 12 morti 235 positivi in più A centropagina invece la fotografia La fotonotizia L'ufficio scolastico regionale Presidi Perché vi siete riuniti Andiamo nelle pagine interne Questa è la pagina di Pesore Provincia del Corriere Adriatico Che esce con due edizioni Marche Nord e Marche Sud Questa provincia Quinta in Italia Per l'esposizione al virus Il territorio di Pesore Rubino Ha scavalcato persino Brescia Per casi positivi rispetto agli abitanti Le Marche Seconda regione dopo la Lombardia Sopravanzate Emilia Romagna E anche il Veneto Boom di contagi Ma fra 15 giorni Il test sarà decisivo Nelle Marche sfondata Quota 1.100 Il dottor Barchiesi Che dice In due settimane potremo raccogliere i frutti Di queste restrizioni Dipende da noi Da noi la mortalità è più alta Ma può dipendere dalla tipologia della popolazione Stanno arrivando La domanda Anche alcuni pazienti più giovani Sì ci sono anche i giovani Ma hanno comunque delle malattie importanti alla base Ipertensione Cardiopatia Diabeto Obesità Patologie oncologiche C'è l'intervista poi a Massimo Agostini L'ex dirigente Del Dipartimento di Prevenzione Che dice Tutto è legato alle limitazioni Se le rispettiamo Allora avremo risultati I primi segnali positivi Forse arriveranno da mercoledì La domanda è Ci stiamo avvicinando al picco Prevedere il picco dei contagi Come azzeccare un ternalotto Lui dice Le variabili sono tante Dipendono da tutti noi D'altronde Fino a domenica scorsa Si facevano i bagordi Siccome l'incubazione Va da due a cinque giorni Fino a quattordici Quello che vediamo oggi È il risultato dei nostri comportamenti E quindi si va a finire praticamente a mercoledì Tutto dipende da quanto saremo Saremo noi capaci di impedire Al virus di replicarsi Lo stanziamento sociale serve infatti a questo Se il virus prende una curva più morbida Sarà anche più facile da curare Distribuite le mascherine Rifiutate dalla Lombardia In dotazione il personale del 118 del RSA Sicurezza I sindacati alzano la voce Fallisce l'ipotesi Ospedale Pulito a Fano Soluzione diversa dal resto della regione Questo è il Corriere Adriatico Poi c'è Malaventure Che appunto è con la polmonite all'ospedale Attenti non è uno scherzo E poi il lungomare deserto Questa è la fotografia Lo stesso punto in Viale Trieste A Pesolo Dove domenica scorsa Furono immortalati Tanti giovani Una folla di giovani Praticamente tutta lì In barba ai divieti Nonostante la splendida giornata di ieri Di sole i pesaresi hanno vinto la tentazione di uscire Pochi irriducibili Soltanto visti sulla panoramica Ma trasgrediscono solamente i camminatori solitari Mentre se ribacchette i fanesi Il sindaco di Fano dice Oggi ancora troppe persone Non si rendono conto dell'importanza Di seguire tutti l'indicazione di restare a casa Dobbiamo resistere alla tentazione di uscire Dobbiamo farlo per i nostri cari e per gli altri Ho dato mandato alla Polizia Municipale E lo estenderò Per Carabinieri e Polizia Di effettuare controlli più serrati Con la salute pubblica Dice ancora Massimo Serri Non si può scherzare Dunque Fanesi avvisati C'è invece chi Sempre sul web Annuncia Di aver visto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Giocare al parco di Villa Molaroli Con il figlio E quindi La conclusione di questo articolo C'è sempre chi predica bene E razzola male Scrive qualcuno Sui social Virus a Urbino Ricci si fa difendere da Vimini Il primo cittadino di Pesaro Replica tramite il suo vice Dalla città di quale Gambini ribatte Io parlo di fatti concreti Non di politica Mentre L'assessore alla sanità di Urbino Elisabetta Foschi Dice Si sappia Che qui in ospedale Ci sono 45 pazienti Col coronavirus Altro che Ospedale No Covid Altre dieci vittime Addio anche a Didario Invece Sulla pagina di Peso del Carlino Sale a 50 Il bilancio dei morti in provincia Ospedale Il collasso Recuperate altre 39 posti A Marche Nord Ma Sono già Praticamente tutti pieni E poi la denuncia Di un'ingiustizia Noi in automobile Per lavoro La protesta di una coppia di fano I carabinieri Hanno bloccato l'auto Guidata dall'uomo Intento a riprendere Al termine dell'orario La compagna E questa è la fotografia Finire a processo Per essermi venuto a prendermi Lo ritengo ingiusto Intanto Assembramenti in strada Denunce in serie In provincia Sono state controllate 843 persone Su tutto il territorio provinciale Di Peso Urbino Questo solo nella giornata Di sabato 14 marzo Da parte delle forze di polizia Dalle polizie locali E sono risultate 36 le persone Denunciate Per aver violato La norma Che vieta Di uscire di casa Senza motivo A fuanno La polizia Ha sciolto ieri Dei mini Assembramenti A Lido Dove diversi anziani Erano seduti Nelle panchine I carabinieri di Peso Intanto hanno denunciato 8 giovani Per assembramenti Notturni Ancora dai giornali Baldoria nel parcheggio Nei guai 5 ragazzini Sono 36 le persone Denunciate ieri Per essere in strada Senza giusta motivazione Una task force Al lavoro Controllati Come abbiamo visto 843 passanti E automobilisti I negozi Sono tutti Regolari C'è ancora Va detto Chi decide Di passare il sabato sera Con gli amici Chi schiamazza Al parco Fregandosene Delle disposizioni Di sicurezza Oppure dimostrando Una incredibile ignoranza Insomma E poi quindi Di conseguenza Inevitabilmente Scattano e fioccano Le denunce Ho il virus Ma voglio arrivare A cent'anni Iris Gulini Diventa il simbolo Di questa battaglia La battaglia dei nonni È ricoverata Il San Salvatore Ma domani C'è il traguardo Del secondo Del secolo Scusato da tagliare Compie cento anni I familiari Che dicono Non possiamo essere lì Con te Ma Volevamo certamente Festeggiarti Ma lo faremo Con il cuore È stata ricoverata Mercoledì È stato Un momento Molto toccante Terzo decesso Invece Al Santa Colomba Altri due morti Invece In spizi di Fano Crescenti Contagi Nelle case di riposo Sette col virus Anche nella RSA Di Macerata Feltria Gregotti Addio Fanno lo rimpiange L'architetto Che progettò Con Arnaldo Pomodoro Il Lido Il Lido di Fano È morto 92 anni A contrastarlo Fu la democrazia cristiana È morto ieri a Milano Aveva 92 anni Vittorio Gregotti Che tra l'altro Progettò Anche Questa Struttura Che Nel 1987 Palazzo Leopardi Sede della regione Marche Nel capoluogo Vedete anche Nella fotografia E Mentre Renzo Rovinelli Che era All'epoca Assessore al turismo Durante la giunta Mazzoni A Fano Parlò Per quanto riguarda Il Lido Di un progetto Bellissimo Ancora Chiusa la pagina Coronavirus A Fano Un solo albergo Resta aperto Danni per gli eventi Sportivi annullati Il presidente Cecchini Situazione disastrosa Come neanche ai tempi di guerra Volevamo rilanciarci Compromessa La promozione del territorio Per il quinto Centenario Di Raffaello Ora Tanta gente Ancora Pensa di essere in vacanza Fossombrone Un negoziante Lamenta Troppa disinvoltura Negli spostamenti Urbani Tabellone elettronico Allo sferisterio Di Fano E quattro telecamere Per la sicurezza Opere di Aset Per la città intelligente La videosorveglianza Alla Rocca E a Piazza Marconi E poi Assistenza A distanza Con video amatoriali L'assessore Tinti Sono messaggi Pieni di fiducia Speranza E di coraggio Chiudiamo con la Valle Cesano C'è un fondo Di 120 mila euro Per le famiglie E le imprese La decisione del sindaco Di Terre Roveresche In attesa Degli aiuti Del governo E poi C'è stato un problema Al sottopasso di via Foscolo Che si è allagato Ieri mattina A Marotta Per un guasto Il sistema idraulico Di drenaggio Fortunatamente Non c'era traffico Nelle strade Quindi non si sono Registrati Particolari problemi Con questo Chiudiamo qui La nostra informazione Mattutina Ci vediamo questa sera Alle 20.30 Con il telegiornale Grazie per averci seguito Vi invitiamo A continuare A seguire Gli aggiornamenti Sul sito internet Occhialanotizia.it E poi questa sera Come di consueto Il telegiornale A voi tutti L'augurio di una buona giornata Arrivederci Grazie a tutti